For the most Grammy wins of all time! Beyoncé entra nella storia dei Grammy Awards, quattro i premi conquistati dall'artista statunitense che si aggiudica la corona di miglior canzone R&B per K-Fit, il premio per il miglior album nella categoria Best Dance Electronic Music Break My Soul, per la performance R&B tradizionale con Plastic Off The Sofa e per l'album dance elettrico Renaissance, nominato album dell'anno. Incetta di premi dunque per Beyoncé, ma ad aggiudicarsi il Grammy per il miglior album dell'anno è stato Harry Styles con Harry's House. Per la canzone dell'anno Los Angeles incorona invece la cantautrice Bonnie Raitt per Just Like That. Si tratta del diciottesimo album in studio della venerata cantautrice e chitarrista americana Bonnie Raitt e arriva a sei anni dalla sua ultima fatica, il convincente Digging Deep. L'izzo ha vinto il Grammy per il disco dell'anno con l'album About Them Time. L'artista ha lanciato un messaggio a supporto della Body Positivity. Quando ero una bambina avrei voluto vedere in tv qualcuno come me, formosa e nera e bellissima. Il premio per la migliore performance pop da solista è andato ad Adele con Easy On Me. Adele ha dedicato la sua vittoria al figlio Angelo. Ho scritto questa prima strofa sotto la doccia quando stavo scegliendo di cambiare la vita di mio figlio. Chi comincia ed è una new entry come Samara Joy conquista il gramofono e il riconoscimento di miglior nuovo artista dell'anno. Grazie a tutti.